In tutti questi anni, quando mi sentivo triste, lo guardavo. E ti passava la tristezza? Ritardato, devi stare lontano da mia figlia, è chiaro? Chiaro! La gente dice che sono scemo. Perché la gente vuole sempre qualcosa da te, anche chi ti vuole bene. Guarda, al scemo si è incastrato! Basta! Amma pai. Mio papà è uno di loro. Un supereroe. Sì, è andato via a salvare il mondo. Quando finisce? Ti avevo detto di stare lontano da mia figlia. Ma tu ci tieni tanto la domichetta, vero? Sì mamma, tantissimo. Anche il muro! Sono tornato davanti a casa tua 9123 volte, una volta al giorno. Ho pensato che tanto rimanere da soli è il destino di supereroe. Ma ci picchia che appetito. Ma che fai la notte? Vai a correre. Se proprio vuoi fare il supereroe cerca almeno di non farti male. Non capisco. Non fare lo scemo con me. Io lo so che non sei scemo. E che abbiamo scoperto il suo segreto. Copperman. Il mio nome è 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 Copperman.